Alle prime luci di questa mattina i carabinieri della Compagnia di Agropoli, con il supporto delle unità dell'arma territorialmente competenti, hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di otto soggetti indagati per i reati previsti e puniti dall'articolo 624-625 nel territorio della provincia di Caserta. L'indagine, originata da alcuni episodi di furto commessi in Castellabate, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un gruppo criminale dedito in maniera stabile al compimento di furti nella zona del Cilento. Sintomo dell'elevata pericolosità dei soggetti, la serie innumerevole di reati predatori commessi solo in qualche mese di attività, tutti con target molto precisi fondati sulla massiva presenza di rame. L'oasi del fiume Alento, pifici, cabine elettriche, sedi operative di aziende, centrali telefoniche sono alcuni fra i principali obiettivi cui si abbinavano secondariamente abitazioni, depositi e rimessaggi di barche, il tutto per un giro d'affari stimato di circa 150.000 euro di refurtiva, sottratta nei vari episodi occorsi in San Giovanni Appiro, Castellabate, Prignano Cilento e Cicerale, mentre a Lucisano, in provincia di Caserta, a Dacerra, in provincia di Napoli e Montoro, in provincia di Avellino. L'attività di indagine, concentrata nell'arco di pochi mesi, ha altresì consentito di evidenziare come il gruppo criminale, concentrato sulla sottrazione di rame, non disdegnasse tuttavia anche refurtiva di altro genere, derubando fin anche alcune derrate alimentari.